Pensare positivo non funziona. Questa cosa cominciano a dirla in molti, perché probabilmente si trattava di una grande bolla che si è andata a sgonfiare. Cioè pensare che le cose andranno sempre bene e immaginare che le cose funzioneranno, in realtà non funziona. La ragione clinica per cui non funziona l'ha dimostrata Gabriele Oettingen, che ha pubblicato un libro che si chiamava originariamente Rethinking Positive Thinking, e che in italiano è Io non penso positivo, pubblicato da Edizioni Tlon, in cui racconta in una maniera divulgativa, perché ci sono tantissime pubblicazioni scientifiche appunto che lei ha fatto nel corso degli ultimi 30 anni, ma in una maniera molto divulgativa racconta appunto questi suoi studi degli ultimi 30 anni portati avanti dall'Università di Hamburgo e dall'Università di New York, in cui ha dimostrato appunto che il pensiero positivo non funziona. Perché? Perché quando tu pensi positivo, quando pensi che quell'esame andrà bene, in realtà nel tuo corpo si rilasciano tutta una serie di sostanze che ti rilassano, ti danno una sorta di soddisfazione e quindi tu non hai più bisogno di fare niente, perché tanto ti sei rilassato e ti sei calmato, tanto le cose andranno bene. In realtà quello che fai è non guardare l'ostacolo, cioè non guardare la realtà per quella che è, quindi le difficoltà che hai, gli ostacoli che incontrerai per quelli che sono, e rischi di andare a sbattere, cioè rischi di non considerare veramente qual è la tua preparazione nel caso di un esame, quali sono le difficoltà che incontrerai nel caso per esempio di una riabilitazione. Lei ha fatto tantissimi esperimenti, uno di questi riguardava la riabilitazione dopo un intervento alle anche. E quello che ha visto è che le persone che pensavano che la riabilitazione sarebbe andata bene facevano poco per in realtà recuperare l'uso degli arti. Invece quelli che si rendevano conto delle difficoltà e degli ostacoli avevano una velocità di recuperare e un'efficacia nella riabilitazione, nella terapia, nella fisioterapia, molto superiore. Ma Oettingen non si è limitata a questo, cioè non si è limitata a dimostrare che il pensiero positivo non funziona. Ha elaborato un altro metodo, che è un metodo semplicissimo, che sembra quasi banale. Questa tecnica noi la usiamo moltissimo nei residenziali, perché sembra appunto molto banale, ma fa vedere qual è il modo in cui ragioniamo. Cioè quello che noi facciamo è sì considerare l'ostacolo, ma non considerarlo nella sua complessità. Quello che Oettingen ha elaborato è il metodo WHOOP, cioè Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Il desiderio, il risultato concreto, l'ostacolo e il piano. Quindi prima di tutto tu devi capire qual è il tuo desiderio, che cosa desideri, poi qual è il risultato concreto, cioè quale sarà la tua condizione, quale sarà la situazione in cui ti troverai, quando quel desiderio sarà stato esaudito, poi devi guardare l'ostacolo e poi devi elaborare un piano per superare l'ostacolo. Detta così sembra una cosa banale, una cosa di buonsenso, e probabilmente lo è. Il fatto è che noi questo buonsenso non lo utilizziamo. Quindi quello che facciamo, e noi l'abbiamo sperimentato, gli andrà moltissimo nei residenziali, sia con residenziali di fioritura personale, sia residenziali, per esempio, con delle persone che dovevano superare degli ostacoli a livello lavorativo, anche con dei manager. E quello che abbiamo visto noi, e hanno sperimentato loro, è che sì, sembra facile, banale, immediato, però fa rendere conto che tu quell'ostacolo lì di solito non lo vedi, lo consideri, ma quello che veramente cattura la tua attenzione è il desiderio. E quel desiderio è ciò che veramente coltivi. E quindi tu consumi tutta l'energia a disposizione nel desiderare quella cosa lì. Ma in realtà quell'energia la dovresti utilizzare per creare il piano per superare l'ostacolo. Quindi quello che vi consiglio di fare è in ogni cosa, dalle cose più piccole a quelle più complesse, di utilizzare, se vi capita, il metodo WHOOP. Quindi desiderio, risultato concreto, ostacolo, piano. Vi renderete conto anche voi probabilmente che vi concentrate di solito soprattutto sul desiderio e sul risultato concreto, ma tralasciate l'ostacolo e tralasciando l'ostacolo non potete creare il piano per superarlo. Il metodo WHOOP quindi è molto semplice, ma si basa sull'idea che il pensiero positivo seleziona una parte della realtà, vuole guardare solo la parte positiva della realtà, ma la realtà è molto più complessa e per realizzare veramente ciò che vogliamo realizzare dobbiamo guardarla tutta. E quindi il metodo in questo caso ha a che fare con il contrasto mentale, cioè mettiamo tutto insieme, guardiamo tutto ciò che ci accade e cerchiamo di capire come superare il ponte per raggiungere ciò che desideriamo. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.